La carta del docente sarà quasi certamente prorogata anche per il prossimo anno scolastico. Per il momento, per la verità, non c'è una comunicazione ufficiale del Ministero, ma resta il fatto che la legge di bilancio appena approvata prevede uno stanziamento proprio per far funzionare la carta sia per il 2019-2020 sia per gli anni scolastici successivi. Difficile capire se questa misura piacerà al mondo della scuola e forse è proprio per questo motivo che né il Ministro né altri esponenti della maggioranza ne hanno finora parlato. C'è infatti chi da molto tempo chiede che i soldi della carta, circa 370 milioni all'anno, vengano usati per aumentare gli stipendi. Ma non tutti sono d'accordo perché a conti fatti questi soldi basterebbero per un aumento stipendiale mensile di circa 20-25 euro, non di più. Più realistica appare invece la richiesta, avanzata anche dagli stessi sindacati, di estendere i benefici della carta del docente anche ai docenti non di ruolo o perlomeno a quelli che godono di una supplenza annuale. Per intanto è bene comunque ricordare che gli eventuali residui del 2016-17 che non siano stati spesi entro il 31 di dicembre scorso non potranno più essere utilizzati e quindi andranno persi.